Dallo studio distribuito di Gump Media Production Settimana del 29 marzo 2021 Automobili senza il cambio Intelligenze artificiali senza l'intelligenza Influencer senza l'influencer Questa e molto altri Scadetta per un'ora e mezza dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana Dalle mi studio di Gure 1 di Sanremo Qui è Franco Solerio Dallo studio di Milano Michele Di Maio E dallo studio di Roma Giulio Cupini Buongiorno a tutti Bentornati all'ascolto di Digitalia Bentornati anche ai miei due colleghi Michele Di Maio Ciao Michele, ciao Giulio Ciao Franco Cominciamo con le notizie Se non mi viene il cazzeggio di inizio puntata Possiamo iniziare direttamente Cosa ci dobbiamo fare? Prego, faccia con comodo Penso che nessuno si possa lamentare di questo Vabbè recuperiamo il cazzeggio Comunque il cazzeggio ce l'hai nel modo in cui si cambia la marcia Direttamente Direi veramente sì Raccontami Giulio Come si cambia? Come si mette la retro sulla nuova terra? E se vuoi andare avanti fai tastino avanti e se vuoi andare indietro fai tastino indietro Non è che sei lì che hai bisogno di fare tanto più In realtà leggo che quello è il meccanismo di backup Non hai capito niente Giulio Ma caspita, allora mi sono perso un pezzo Sì Il concetto è che Che te ne fai del cambio? La macchina C'ha l'intelligenza artificiale Perché io avevo letto che capiva in base a dove tu volevi andare La macchina capisce E quindi è rimasto così Capisce Capisce Tu schiacci il pedale Tu schiacci il pedale E lei ha già capito se vuoi andare avanti o indietro E quindi mette la marcia giusta Ovviamente se sbaglia sono solo cazzi tuoi Vabbè 50 e 50 Come risolviamo il fatto che una macchina elettrica ha meno pezzi E quindi fa meno carrozzeria Leviamogli il cambio È giusto, è certo Mi sembra evidente E se proprio tu decidi di override Quando è che fai l'override? Dopo che tu hai schiacciato l'acceleratore E ti sei accorto che è andato dalla parte sbagliata Quindi sei sceso Sei andato a vedere il danno sul paraurti Sei tornato dentro Contro l'istante del giorno Adesso stabilito che A parte il danno Ora ho deciso di andare avanti E la macchina ha deciso di andare indietro Cosa faccio? Devo fare swipe in su Sulla cornice del mio sistema di intrattenimento Sul touch screen Perché Qual è? L'ha detto Steve Jobs La cosa migliore dell'universo Sono i gesti swipe Se insomma L'ha detto Steve Jobs Swipiamo avanti e indietro E quindi sì Ci sono due freccette E tu swipe in su o in giù Se vuoi andare avanti e indietro Dopo che la tua macchina Decise di andare in direzione sbagliata Giustamente il ragionamento è Non puoi rendere legale la guida autonoma Se rendi impossibile la guida manuale Eh sì Effettivamente ci sta Allora ragazzi Milo Musk è un genio Cioè Siete voi che non capite Inizio a preoccuparmi un po' Su questa definizione di genio Però va bene lo stesso Però avrà ragione lui Perché tanto ha sempre ragione lui No E cosa ci dobbiamo fare? No Diciamo Il ragionamento che loro hanno fatto E che hanno messo Nella pubblicazione Comunicato stampa È quello di dire In preparazione Ad una guida Totalmente autonoma Il passaggio sarà fatto Intanto Attraverso una via intermedia Dove tu hai la percezione Comunque che qualcosa Potresti controllarlo Ok Il tema è che non siamo ancora sufficientemente lì Per poter fare un passaggio del genere Quindi per carità Questo tema di rompi tutto Cambia le cose Tipico americano Può funzionare sul software Sulle auto È molto più complesso E anche il tema della regolamentazione Sicuramente impedisce Lo sviluppo di queste cose qua Anche perché Ma attenzione Stiamo parlando del software delle auto Quindi funziona Anche quello è Usa il cervello Giustamente Sì Però Considerando il fatto che Lo collego a un'altra notizia Leggevo in questi giorni Che Credo L'anno prossimo È previsto il sorpasso Di Volkswagen Come gruppo In termini di vendite O forse un paio d'anni ancora Comunque In termini di vendite Stanno arrivando Sta arrivando la concorrenza Sul mondo elettrico Rispetto a Tesla Se non insisti Su una proiezione di innovazione Almeno percepita Nei prossimi anni Potresti avere un problema E potrebbero superarti Quindi Sì Ma forse L'innovazione percepita Non è proprio la cosa migliore A cui mirare In questo momento Eh sì Eh sì Va bene che la lobby Dei carrozzieri È fortissima Ed è seconda solo A quella dei notai Ma fateli rubare le ruote Però Parleremo un po' più avanti Ecco Ma poi io mi immagino C'è la macchina a volte No? Sei di fretta Devi uscire da un parcheggio No? Marcia avanti Tu marci indietro Tu marci avanti Indietro Ti fai la tua manovra Esci dal buco In cui ti sei infilato No Qui devi toccare Piano piano E vedere se la macchina Va avanti Sì va avanti Bene Poi giro il volante Ho molato Adesso rischiaccio l'acceleratore Sperando che intanto Lui abbia cambiato marcia Abbia messo la retro Eeeh Faccio il secondo pezzo Di manovrina Dopodiché Molo l'acceleratore Giro il volante Bam Ha sbagliato Ha messo la Dai Dai No Ve lo raccontavo Che comunque Gli Stati Uniti Io quando sono andato L'ultima volta a New York Vedevo questa roba Che non riuscivo a capire Cosa fosse Arrivaggino Parcheggia Poi apre il portabagagli Tira fuori un cuscinetto Chiude il portabagagli E mette il cuscinetto Sopra la targa E lo vedo una volta Dico vabbè E uno strano E lo vedo due volte Due strani E parabordi E parabotte Esatto Perché siccome molti Non mettono il freno a mano Dice Tocca uno Tocca l'altro A posto Sì ci aggiustiamo tutti Eh certo Diciamo che Però l'ultimo Finisci in mezzo alla strada Poi Più bello Agli americani Eh beh Ma è il minimalismo Spinto E Johnny Hive Che in realtà Ha influenzato anche Il design dell'automobile Oramai le automobili Non hanno più Il paraurti Il paraurti È una cosa estetica Per cui deve essere Bellissimo Lucidatissimo Integrato Con il resto Della carrozzeria Quindi non è un paraurti Perché quando tocchi Lo devi cambiare tutto E costa 5000 euro E la targa Eh no Lo spazio per la targa No La targa ci si appiccica sopra Perché la macchina Per fare le foto Da mettere sulle riviste Sui siti Deve essere senza targa Per cui non possiamo fare Uno spazio incassato Per la targa Infatti tra l'altro Credo che in California Sia uno di quegli stati Dove la targa Ce l'hai solo da un lato Mi sa Ce l'hai solo dietro Credo Eh vabbè Il design è importante Però va tutto bene Finché non fai Non prendi l'andazzo Degli smartphone Inizia a togliere le porte Dalle macchine Perché in quel caso Potrebbe anche essere un problema Va bene Intanto che siamo Nell'automotive Jeep Sta pianificando Di installare Stazioni di ricarica Ai capi Dei percorsi Fuoristrada Sentire i fuoristrada Percorsi fuoristrada All'inizio Alla fine Tac Con l'unione elettrica Così arrivi lì Ti ricarichi Stai in mezz'oretta Dopodiché ti puoi fare La tua sgasata Susterrato Ad attraversare Il Grand Canyon Ma guarda Vedevo Vedevo molti piani Anche in Italia Ma in generale Che mi hanno raccontato Su tutte queste Riconversioni elettriche Ad esempio I piani che da noi Hanno fatto Per Autostrade per l'Italia Che sta facendo Nell'X E chiaramente Fiat Oltre a questi piani Negli Stati Uniti Ha anche molti piani Ovviamente In Europa Per spingere Tutto quel mondo lì Eccetera Al momento Sono tanti bei piani Con un sacco di numeri Però Poi concretamente A terra L'unica rete Che ha un senso Resta quella di Tesla E poco più Quindi su quello Adesso bisogna vedere La concretezza Sui numeri Da quello che sembra Quest'anno Ci sarà una crescita Tre cifre Della disponibilità Di questi impianti Sulle varie Sulle varie ricariche Però certo Che se devi fare Una lista di priorità E devi decidere Se cablare una città Una città urbanizzata O devi cablare I posti per gli sterrati Per carità Bello lo sterrato Però magari parti dalla città E come ancora Ancora Non c'è quasi niente È una Jeep 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 E comunque Dopo faranno Era Jeep Che ha fatto il follow up Con Bruce Pristing Che ha fatto tutto Quel seguito Era Jeep Era Jeep E quindi comunque Adesso uscirà una notizia Che hanno arrestato Bruce Pristing Ubriaco A una stazione di ricarica Mentre cercava Di accendersi Il sigaro Con le scintille Dalla stazione americana Davvero americano Eh sì Vedevo Guardavo Il Gran Premio Ieri ho guardato Ero a casa dei miei Ho guardato Tre minuti di Gran Premio No un po' di più Ho guardato Tre minuti di garra Di Gran Premio Che sono durati mezz'ora Un sacco di safety car 27 minuti di safety car Oltre a safety car C'era anche La safety car virtuale Ho scoperto Perché se fanno un incidente Esce la safety car Poi finisce la safety car La safety car Rientra Ma succede subito Un altro incidente Non c'è in tempo La safety car Non va più forte Formula 1 Non può andare E allora fanno il giro Con la safety car Virtuale Anche perché Mi aggancio un attimo A questo Perché sul Financial Times Era uscito un pezzo Che diceva Aston Martin Ha avuto crisi Crisi contro crisi Cioè a livello industriale Punta tutto Su questa promozione Che avrà della safety car Per la sponsorizzazione Del Grand Premium Però ieri era veramente La prima mezz'ora Solo safety car Ho detto Mi sembra forte L'investimento Che hanno fatto Che praticamente Gira solo Aston Martin E basta C'è questa macchina Dentro c'hanno due Che sono bardati Che confronto Quelli che erano Sulla Apollo E erano Quelli che sono scesi Sulla luna Erano in smoking Casco Contro casco Tutta in iv E guidano 80 all'ora Su una pista Fatta per guidarci A 250 E diceva Vabbè Ok Sarà anche E questo concetto È la nostra società Lo vedi anche Nei tempi dell'epidemia La sicurezza Tutti i costi Quando eravamo ragazzini C'erano le cose Di avventura vere Ambrogio Fogar Che andava Faceva il giro del mondo Ma questo era il problema Delle corse Andava a fondo Restava su una zattera Per sei mesi La gente tornava Gloria Facevano La reclam Del cameltrofi Se volevi Ti iscrivevi anche tu Al cameltrofi Ti faceva il corso Oggi se fanno il cameltrofi Te lo fanno Col cavo elettrico Lungo tutto il percorso Con le stazioni di ricarica È una roba Cioè Non puoi Va bene Oggi siamo tutti più sicuri Nella vita di tutti i giorni Abbiamo l'ABS Abbiamo le sicurenze Tutto tutto Va bene Ok Ma se è avventura Non può essere ultra mega sicuro Se no non è più avventura No Cioè Se sull'Everest in cima Ci fai andare col teletrasporto E poi mi ritorni a casa Non è più avventura È teletrasporto Basta Certo Certo Vabbè Parlavi di Volkswagen Ho visto Ho visto i nuovi modelli Con piacere Che il Il pulminetto Della Della Volkswagen Carimissimo Va avanti Pensavamo fosse Ne avevamo parlato Un anno fa Credo Pensavamo fosse solo un concept Invece pare che arrivi a produzione Molto Molto carino Anche perché Questo secondo me È il vero tema dell'elettrico Cioè Il pulmino della Volkswagen Il pulmino di svolta dell'elettrico È il furgoncino dei figli dei fiori Che cosa c'è di meglio Ma questo ne vedono appallate Di questo coso Ma diciamo Diciamo la verità 300 cavalli Il furgoncino Figli dei fiori 300 cavalli E il cannone alla guida Non vanno esattamente d'accordo Secondo me I figli dei fiori Sono i boomer di oggi Quindi vi dico soltanto questo Ok Perfetto Effettivamente Però scusate Al di fuori di Tesla Tutte le elettriche Che sono state presentate Fino A oggi Hanno design mediamente brutti Sì Brutti perché devi fare rottura Perché devi fare cose nuove Perché 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 Quando Anche il SUV della Tesla Non è che sia proprio Poi Sono gusti Sì esatto Comunque Non è che stiamo parlando di Poi è arrivata la Taycan Che ha ripreso le forme Della storia Della Porsche E l'ha rienterpretata E non ha fatto una roba Completamente fuori di E si comincia a vedere Il fatto di dare una continuità Cioè di non dover portare L'elettrico a una rottura Ma dare un elettrico Un futuro Che parte da una storia Di design E secondo me sul design Si gioca la partita Della crash di questo mercato Ed è difficile Il design Io guardavo le Le foto Dei vari prototipi Della BMW Di ste auto elettriche Mamma mia Cioè avete Quella a fare lì Che è sempre stato Per fare l'aria Radiatore E il radiatore Non c'è più Allora più grosso Ma cos'è Ma cosa che fai Eh sì Ecco sì Sono d'accordo Non ci si capisce Però vabbè Il pulmino Il pulmino Dei figli dei fiori Michele però ti correggo I figli dei fiori Non sono i boomer di oggi Sono i figli Dei figli dei fiori Che sono i boomer di oggi Scusa Del 69 Uno che aveva 20 anni Del 69 Era del 49 Ah no Era già Era già Era già Ci sta Hai ragione Tu ho sbagliato Ma lui parlava Dei figli dei fiori Di metà 800 Sei tu che non l'hai cosa Sei tu che non l'hai cosa La first wave Quelli della guerra Dei rossi Dei figli dei fiori In quel senso Va bene Va bene E poi la Volkswagen Fa la di un buggy La di un buggy Troppo bella Ce l'ho Ce l'ho Non l'avevi preparata No ti giuro Ti giuro Ce l'ho Ce l'ho In Ableton Live Da anni Ce l'ho Ce l'ho tutte Eh no Adesso stacco Se no YouTube ci mette Dietro la lavagna Con i castighi Con i bambini in castigo A scrivere Non metto più musica Protetta da copyright Su digitalia Vabbè Tanto la campagna Advertisement Di un buggy È già fatta Purtroppo Ci è rimasto Soltanto Terenzil Però basta Che c'è rossa Con la Con la Con la Cappottina gialla E certamente Certamente E poi E tante salsicce E ci mancherebbe E ci mancherebbe Va bene Chiudiamo Chiudiamo L'angolo automotive Apriamo L'angolo search Giulio ci hai condiviso Questo Articolo Un sacco Delle ricerche Su google Si concludono Con un nulla Di fatto Evito dei paragoni Facciamo un po' Per gli ascoltatori Un po' di storia Di che cosa è successo Sul motore di ricerca Proprio rapidamente Per capire come siamo arrivati Fin qui Cos'è un motore di ricerca Allora Il grande tema È che google Nel corso degli anni E si è concentrato Su questo Soprattutto nel corso Dell'ultimo anno Tende a fare Quella che si chiama La posizione zero Cioè uno snippet Di un contenuto Che dà la risposta Quando tu fai una ricerca Senza bisogno Di cliccare dentro Al risultato Questo è molto vero Ad esempio Per le ricerche Di informazione Quando cercate Una roba su wikipedia L'abstract Del risultato Vi dà già L'informazione Che serve È tanto vero Per tante altre robe Dal superenalotto Fino a Le attività commerciali Ti becchi il numero Di telefono In pagina Chiami Senza Partendo dal presupposto Che mediamente Si dice Che una percentuale In base alla fonte Tra il 10 E il 25% Delle ricerche Che ogni giorno Google vede Sono ricerche Google non ha mai visto Quindi sono ricerche nuove Quindi parliamo Di un tasso incremento Diciamo Di visualizzazione Di quello che è Il mondo delle ricerche Che cambia tanto Di giorno in giorno Una delle ultime analisi Si dice esattamente Quello che accennavi tu Franco Cioè che il 52% Ad oggi Delle ricerche Vengono monitorate Su un set di keyword In varie industrie Non genera click Non genera traffico E quindi resta fermo Sul risultato Che dà il motore di ricerca Senza andare più avanti Di così Questo tema È un tema Molto grande Sia per noi Che consultiamo le informazioni Perché chiaramente Entra molto Non soltanto In queste posizioni Chiamate zero Ma entra molto Anche in chi Magari delle notizie Legge solo i titoli E quindi si informa Soltanto vedendo Un po' la prima pagina Di Google News Dando un'occhiata A che succede Chi cerca prodotti E magari vede Soltanto La carrellata Di prodotti Che ti dà Google Shopping Chi cerca il meteo Tantissimi hanno visto Il crollo del traffico Del meteo Cioè qui parliamo Di aziende Che hanno poi Avuto dei problemi E molte aziende E molte aziende Ne stanno approfittando Perché chiaramente Fai molti investimenti Per essere in quella posizione E per essere visto Senza un click Quindi non misuri più Il traffico Per molti altri Che vivono in pubblicità Quello lì Vuol dire Non fare più pubblicità E quindi Quello stesso mercato Che Google Ha contribuito a creare Facendo così Contribuisce A distruggerlo Il discorso È il solito discorso Di fare sia il gatekeeper Che il fornitore Di contenuti Non lo so Penso che questo Apple ha fatto Un sacco di mosse Scomposte Nell'ultimo periodo Per cercare Di divincolarsi Dall'attenzione Dei legislatori Che stanno cercando Di mettere Tutta big tech Sotto un po' Sotto pressione Per il discorso Monopoli Abuso di posizione dominante Ne parliamo forse Anche dopo Se c'è il tempo Comunque Concessione agli sviluppatori Diminuzione delle tariffe Diminuzione dei percentuali Per chi sta sotto Il milione di dollari Cioè Tutte cose che di colpo Sono venute fuori Briciole Rispetto a quello Che però Sono evidentemente Fatte Per cercare Di rientrare Di far vedere Al legislatore Vedi siamo bravi Noi lasciamo la libertà All'utente Non siamo E invece Google Mi sembra che stia andando Esattamente al contrario Non mi sembra Che abbia fatto Di questo tipo di Vedremo Quella che sarà La strategia migliore Se cercare da subito Come fa Apple Di sembrare bravi E di non entrare Neanche nella diatriba Oppure di essere Più cattivi possibile In modo che Nel momento in cui Dici vabbè Adesso devi cambiare Dici vabbè Sì adesso Quel 50% Lo facciamo diventare Il 40% Siete contenti Ecco In cui il legislatore O l'autorità garante Della concorrenza Da guardare È stato Google Shopping Che Giulio infatti Ha citato correttamente Però Questi sono Tutti sono gli effetti Di quello Di cui probabilmente Sicuramente Ne abbiamo parlato Quando Google Lanciò appunto Le integrazioni Delle informazioni Sopra la sua pagina O nella sua Barra di destra Che hanno Tagliato il traffico Poi a tanti siti E tante realtà Che vivono Di pubblicità E quindi Di click Sono effetti Di qualcosa Che oramai Sì va avanti Saranno almeno 6-7 anni Che Google Ha integrato Questo tipo Di informazioni Lui te la vende Come È però Così il consumatore Chi cerca Trova prima Le sue informazioni Però Non è più Il tubo Dell'acqua No E poi Specifichiamo una cosa Oggi è un mercato Ancora molto lontano E Ha ancora Molta strada Che che ne dicano Non è domani Che avverrà La ricerca vocale Come abitudine Come abitudine Ma la ricerca vocale Attinge esattamente Da lì Come fonte Quindi Chi decide Chi sarà La risposta Una tanto Ma una domanda Sarà chi sarà Posizionato In quelle pagine In quelle pagine E quindi Ovviamente Oggi Comunque Un minimo Di scelta Ce l'hai comunque Se vuoi approfondire Domani No Però siamo di nuovo Lì Chi sarà Posizionato In quelle pagine Non è più Chi vince La guerra Del SEO Nel bene Nel male Ognuno può pensare Del SEO Quello che vuole Ma è Chi convince Google Perché quello lì Sono risultati Non che emergono Per l'algoritmo Ma perché Emergono Per scelta editoriale A quel punto Google È il padrone Del 50% Scelta editoriale Mica tanto Con i miliardi Di possibilità Di chiavi di ricerca Quanti ne puoi Editorializzare C'è un teigenza artificiale Che fa scraping Delle pagine Non credo assolutamente Perché sono tutte Formotate in maniera diversa Io credo che ci sia Una scelta No no Guarda La risorsa La posizione zero Con lo snippet È comunque algoritmica Cioè è soltanto impaginata Ma ci arrivi Ma scusa Quelle con le previsioni Del tempo Che ti mette l'icona giusta No Quelle no Ma quelle Quelle anche Sono comunque Impaginate A fronte di un accordo Ad esempio Ti faccio l'esempio Il superenalotto Il superenalotto È impaginato Con le palline Con i numeri Però poi La fonte che finisce lì Varia E varia A livello algoritmico Perché il set Di dati di provenienza È la stessa Quindi Questo è un esempio Che ti posso dire per certo Il meteo Sono accordi E quello d'accordo È come la stile Del meteo Ci saranno un po' Tutte e due Eh certo Ci saranno un po' Tutte e due Va bene Michele Visto che l'hai messa tu Ce l'ha legito La recensione del giorno Aspetta che È un po' piccola Non è vero Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Trello me l'ha allargata Grazie Trello Allora Recensione che ci è arrivata Tramite storia di Instagram Per la prima volta Da Bubbles Che ci dice Rag Parlando ai suoi followers Finalmente forse Un podcast di tecnologia E attualità Che non ci sbotta I genitali Sulla bellezza Di Travis Kalanich Sul cervello Enorme Di Musk E sui piaceri Che si provano Nel ricevere Gli stivali Di quelli Della Silicon Valley Nel retto In una stanza addobbata Con i poster Di Zack Schneider Con due diffusori Kipsic Che Nella sua Triangolatura Diffonde un corso online Di crescita personale Basata sugli iscritti Di Napoleon Hill E la mindfulness In contemporanea Che manca Manco le stanze discoteca Di Villa Grimaldi Negli anni 70 Cileni E questo piccolo L'ultimo riferimento Mi manca Culturale Ci sono puntate Anche su Youtube Nel caso seguiteli Su Instagram E sta parlando Di Radio 24 No Digitalia.fm Ti sei perso Il pezzettino in alto A destra Che è il succo Del discorso Cioè Non ne sono certo Perché le puntate Sono tantissime Si parla di tutto Nel caso Ho trovato un podcast Decente Ringraziamo Un'ottima recensione Ce la mettere proprio Sul sito La prima cosa Che ti esce Ce la mettiamo Grazie davvero No però Sincero ci sta Rispetto a quello Che si trova In giro sulla rete Oggi Siamo Siamo contenti Che si percepisca La nostra Il nostro essere Diciamolo Con coraggio Senza vergogna DAC7 E piattaforme digitali Dal 2023 Scambio automatico Di informazioni Sui redditi Dei venditori Voi avete capito Come si configura Come questa DAC7 A partire dal 2023 Autorità fiscali Dei stati membri Si scambieranno Automaticamente Informazioni Sui redditi Percepiti Dai venditori Sulle piattaforme digitali Cioè se io vendo Su ebay Su amazon E robe del genere Ci sarà un sistema Un sistema in automatico Che collegherà Il sistema Del tesoro La guardia di finanza Di robe del genere Con direttamente Amazon ebay E robe del genere E ci sarà La possibilità Ci sarà un report Diretto Un reporting Diretto Guarda Franco Allora Parentesi Pubblicitaria Una delle nostre società Si chiama Deliverty E fai e-commerce Una delle nostre società Eh sì Sono tre E io ogni tanto La sottolineo Questa cosa È giusto E Deliverty Fai e-commerce Per Parmalat Per tutta questa gente qua Quella della pubblicità Quella dell'e-commerce La terza Ah le donine Le donine Sì Eventi Ma ha pagato Ha pagato Il segmento Eventi Larga Oppure Oppure sta facendo Il freerider Comunque Quando noi facciamo Un e-commerce nuovo Soprattutto quando dobbiamo Fare vendita B2C Quindi vendita Al consumatore finale Se sei nel paese Di residenza fiscale Della partita IVA Su cui vendi Non c'è problema Perché devi fare Dichiarazione fiscale Dei redditi Ma devi registrare Tutte le vendite Su quello che si chiama Il registro dei corrispettivi Quindi devi fare Una sorta di cassa Come se avessi Una cassa con lo scontrino Il tema qual è? Che quando va nel marketplace E vai sul Quindi un privato Che non scontrina mai E quindi non sarebbe Tenuto ad avere partita IVA L'illusione del reddito In quel caso È molto possibile Molto probabile Perché chiaramente Non c'è un sistema Di dichiarazione automatico Che faccia da centralizzatore Come potrebbe avvenire per me Che sono un ente Con partita IVA Questo è ancora più vero Quando vai all'estero Molte aziende Spesso ci chiedono Di andare all'estero E di vendere Non B2B Ad altre aziende Ma di vendere A consumatori finali In Germania O negli Stati Uniti La legge dice Che se superi Tendenzialmente Una mediona Sono 10.000 euro Di vendita In un paese estero Devi aprire una partita IVA Lì E devi dichiarare Le tasse lì Quindi anche qui Se tu sei in un marketplace E vendi il caffè Dall'Italia Ma vendi questo caffè In tutti i paesi del mondo Perché magari ti è partito Il business E fai più di 10.000 euro Che per una vendita Non sono irraggiungibili Dovresti in teoria Aprire una posizione fiscale In quel paese Cosa che non avviene quasi mai Quindi in teoria Questa legge Dovrebbe in qualche modo Tentare di rimettere A pari Una concorrenza interna Tra chi deve pagare Mille mila di tasse E chi invece si apre Il marketplace Va lì Finché non lo beccano In qualche altro modo Però lo chiude Lo riapre E vediamo che succede Perché tanto non c'è partita IVA Questo è un tema importante E vedremo un po' Come verrà applicato Però diciamo La razio nasce da lì La razio è corretta Bisogna poi vedere L'implementazione Perché La giustizia Algoritmi Per cosiddette Lo sapete Che mi fa sempre Un po' rabbrividire In particolare C'è un piccolo paragrafo Di tutto l'articolo Che parla di questo Dac7 Che dice In particolare Il progetto di direttiva Prevede che gli operatori Delle piattaforme In via automatica Diano le informazioni Sulle transizioni Effettuate dagli utenti E questo è un pochino diverso Nel senso che Se per utenti Si intendono I venditori Io credo Il registro Diventa Il registro elettronico Il registro corrispettivo Io devo registrare Tutte le transazioni Di tutti Ecco Ma le transazioni di tutti Ci puoi registrare La merce venduta Il costo L'iva applicata Quello che vuoi Oppure ci puoi applicare Anche il destinatario Nel momento che fai In cui ci metti Anche il destinatario E fai una cosa del genere Applicata a tutto L'e-commerce A tutto quello che passa Sul web In giro per l'Europa Sti cazzi È una macchina Da sorveglianza Terrificante Vuol dire che Ogni singolo nostro Acquisto In automatico Non quando viene richiesto Perché c'è un'indagine fiscale Ma in automatico Finisce in un computer A guardia di finanza Che alla faccia Della pesca strascico Può dire Fammi vedere Quello che Quest'anno Ha comprato Sicuramente Questo è uno dei punti È una roba Terrificante Terrificante Però che differenza C'è con la fatturazione Elettronica E parlo da ignorante Sul tema Che tu Quando compri Come utente Non come business Non sei obbligato A farti fare Lo scontrino Non è tracciato Non è legato Quando compri da Amazon Come privato Mica ti fanno la fattura Michele No ok Però questo vuol dire Estendere al B2C Una cosa che già esiste Nel B2B Sì ma Capisci Diventa un'operazione Di controllo totale Nel B2B Ha senso Perché Il business Che vende Guadagna E paga le tasse Il business Che compra Scala dalle tasse O mette nelle spese Quella spesa Il controllo Sul consumatore È una cosa Ben più invasiva In questo caso Perché il consumatore Non deve niente Allo Stato Se non l'IVA Che però viene già pagata Attraverso il venditore Per cui In quel momento Si esaurisce Il rapporto con lo Stato Nel momento in cui Uno Stato mi dice Io pretendo di vedere Ogni singolo pacchetto Di sigarette Che tu compri È porca miseria Non mi piace tanto Questa cosa Poi se a voi piace Un altro discorso Però non c'è stato Assolutamente Un dibattito pubblico Su questa cosa Ed è un'erosione Della libertà Che sinceramente Non abbiamo Non appare In questo periodo Di erosioni Della libertà Però considerando Che tu Per una vendita B2C Non devi dare Il tuo codice fiscale Ecco La vedo un po' difficile No ma poi parla Di dare informazioni Sulle transazioni degli utenti Secondo me sono Transazione 1 Transazione 2 Transazione 3 Cioè il numero di transazioni Non credo i dati degli utenti Mi sembrerebbe Ma poi può darsi Che gli utenti Sia inteso come gli utenti Della piattaforma E quindi i venditori In questo caso Però è vago Capirete voi Capirete voi Che è vago Federico Morello Ci scrivo E non vorrei allarmare il doc Ma ci sono già Diversi adempimenti Della ADE Agenzia delle entrate Che funzionano Già così Non mi risulta A livello di singola transazione Assolutamente no Se mi dici A livello di venditori A livello di incassi A livello di Assolutamente Hanno veramente tutto Che mi dici Che vadano a vedere Ogni singolo Ad esempio C'è stata una polemica Sul discorso Delle tessere Delle tessere punti Del supermercato Perché lì sì Che vengono registrate Per nome Ogni singolo pacco Di biscotti Ma Da quello che avevo letto Non 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 era stato autorizzato Nessun collegamento Con i database Della Però Federico Hai detto Che si chiama Il nostro ascoltatore Che ha messo la nota Se ci mani Mamma che domande difficili Che mi fai Non ti preoccupare Sì Federico Morello Se ci mandi Se ci mandi dei link Noi stiamo Studiamo Tutta la settimana Apposta Per cercare di non dire cose A sproposito Su Digitalia Per cui se ci mandi Qualche cosa Lo studiamo Volentieri Tanto l'argomento Tornerà Tornerà Sicuramente Alla ribalta Google pagherà Per gli articoli Di 14 editori italiani L'ha fatta anche in Italia Eh sì Ma sì È arrivata La Marchetta è arrivata Anche in Italia Senza neanche dover Minacciare Di fare una legge Come aveva fatto L'Australia E quindi Google Ha firmato Ha firmato appunto Questo accordo Con grandi gruppi Gruppi Grandi Sia dal punto di vista In alcuni casi Del fatturato Almeno per quello Che è il settore Come può essere RCS O il Sole 24 Ore O il Fatto Quotidiano E anche Altri che invece Sono Tipo Tipo Ciao People Ledinet Gruppo Gruppo Corriere Varese Web Che sono un po' Quei siti Il Corriere dei Piccoli Fa parte del gruppo Del Corriere Oppure Eh non lo so Non lo leggo Non lo so Perché il problema È quello Il problema è semplicemente Quello Cioè non esiste Che ci sia una diatriba Tra Editoria in generale Mondo dell'editoria E Google Perché In qualche modo Si sta orientando Il mondo Verso Una Un riconoscimento Del valore Che Google Prende dagli editori Nel momento in cui Mette delle informazioni Come diceva Giulio Tipo quelle informazioni Della prima pagina Degli snippet Che poi non vanno Sulla pagina Dell'editore E che per risolvere Questa diatriba Semplicemente Non faccia un sistema Più eco per tutti Ma prenda I più grossi Gli unici Che gli possono dare fastidio E paga quelli E gli altri Se la prendono No stoppino Non è proprio Una cosa Elegantissima Ci chiediamo Chissà come mai Ne parlano su Digitalia Non ne parlano Sul Corriere Di questo problema Chissà come Ma fermo Sul Corriere Ne parlano E ne parlano Benissimo Ah benissimo Ecco certo Perfetto Non parlano del problema Parlano della magnanimità Di Google Esatto Finalmente è fatta giustizia Perché Google Versa contributi Alle testate Poi tra l'altro Ad esempio Adesso vado a memoria Però testate Ad esempio Come Libero O Il Foglio Che sono testate Medie Diciamo Prendono ad esempio I famosi contributi All'editoria Di cui Oramai A parte Tipo Il Corriere Delle Dolomiti Lo prendono Veramente In due tre giornali Se non ricordo male Sia Il Foglio Che Libero Prendono anche I contributi Dallo Stato Quindi Oramai Sono giornali Oramai Neanche sulla pubblicità Si basano Poi io Il Foglio È uno dei pochissimi Quotidiani Che riesco Ancora a leggere Ogni tanto Però Ed è un peccato Perché ci sono Tanti contenuti Anche di qualità Ma diminuiranno Per forza Ma diminuiranno Per forza I contenuti di qualità Perché più paghi La gente Anche senza lavorare Meno la gente lavora Credo che sia stato Ampiamente dimostrato Anche Dalle manovre economiche Dell'ultimo governo In materia di redditi Di cittadinanza E cose del genere Non è che puoi pensare Di pagare la gente E dire Va bene Io ti pago lo stesso Vedi tu Se lavorare o no Vabbè Lasciamo stare Deepfake Molto deep E soprattutto Molto fake Mi sembra Praticamente Out of the underground Ma non come i capelli Del signore Raccontacela tu Michele Allora È stato Non so se È stato scoperto Che un utente Un utente Su Twitter Di cui non proverò A pronunciare Landler In realtà Non era una giovane Ragazza Motociclista Giapponese Ma in realtà Era un Un uomo di mezza età Giapponese Dal nome Zongu Qua ci proviamo Che con l'utilizzo Delle tecnologie Del deepfake È stato Insomma È diventato Un influencer Spacciandosi appunto Per la Per la ragazzina Di cui Di cui sopra Quindi Torniamo Come l'hanno Sghiamato Eh Allora Non ho Sinceramente Non ho letto L'articolo originale Della BBC Che era Che era linkato Quindi mi Mi manca Vediamo se riusciamo A scoprire Perché io ho visto Quello Il deepfake Di Tom Cruise Su Su TikTok È pazzesco Fuori di testa Ma anche questo Ma anche questo È pazzesco Questo Mamma mia Fondamentalmente Era un tizio Di mezza età Con i capelli lunghi Che faceva I video Bellissimi Poi Un sapantenne Non lo so Ma i giapponesi Hanno dei capelli Molto Delicati Sottili Quasi femminili Molto trattato Complimenti Giapponesi Sono così Però Nonostante i suoi Capelli belli Faceva dieci Visualizzazioni Ogni volta che Tweetava O faceva un Instagram Sui suoi viaggi In moto Sulle sue moto Eccetera Si è rotto le balle Di avere dieci Dieci visualizzazioni Dieci risposte A ogni post E ha deciso Di impersonare La ragazzetta Di turno E ha visto I suoi I suoi post I suoi like Passare da dieci Per ogni post A diecimila E ovviamente Lui ha continuato Cosa doveva fare Esperimento riuscito Cosa faccio Torno a dieci post No Quindi ragazzi Se settimana prossima Durante la live Su youtube Improvvisamente Vi trovate Tre ragazze I capelli Vabbè Ci sono sempre Le parrucche Ecco Non è Non è Non è Va bene Un inno Alla parità Di genere Comunque Il principe Il principe Harry Si inventa Un lavoro Sarà Chief Impact Officer In una Startup Non lo so L'ho messo Perché mi piaceva Allora vale tutto Cioè vale tutto Allora Giulio Come ti fai chiamare Tu Perché abbiamo Elon Musk Com'è che si Chiava Master of Master of Tech Master of Technology No King of Technology Tecno King Tecno King Tecno King Tecno King Il suo CFO Che invece Era Master of Coin Master of Coin Il suo socio Che si occupa Tutto all'aspetto Cryptovalute Bitcoin All'interno di Tesla Eccetera Giulio Dobbiamo trovare Dei nomi Anche Ninja Of Sì esatto Vorrei suggerimenti Perché Veramente Qui mi sento Anche un po' In imbarazzo Effettivamente Eh la corona La corona Questa cosa Beh tu Giulio La corona logo Ora chi non ce l'ha Ma lui non Cioè Vabbè Vi dicevamo Che Più Più potente Ancora Della lobby Dei carrozzieri E' quella Più potente Anche Dei principi E dei re Ah non c'è Non c'è I carrozzieri Il principe Perry La regina D'Inghilterra E i notai Sono sopra Ovviamente Ovviamente Voi sapete Che Da Chi era Era Monti Che aveva fatto Il decreto Che ci hanno Ciulato il nome Ha fatto il decreto Digitalia Sì può essere Ok Con il decreto Digitalia Noi c'eravamo Già ai tempi Di Monti Questo Dice l'uno Insomma Ehm Nel decreto Digitalia Se non sbaglio Era inserito lì C'erano tutta Una serie Di Strategie Per portare il paese Più verso il digitale Tra cui L'introduzione Del concetto Di start up Anche dal punto di vista Burocratico Start up innovativa Perfetto C'era la start up innovativa La società Che potevi fondare Con un euro Di capitale Perché Si era visto Che due ragazzi Scappestrati Che se volevano Se volevano fondare La società Gli servivano 40.000 Solo per Per aprirla E quindi Un euro E Togliamo tutta La burocrazia Ma rendiamo possibile Aprire la società Online Vai online Non so dove Non ci ho mai provato Non sapevo neanche Che fosse arrivato A regime Questa cosa E tam Apro la società Va bene Ci credo poco Che poi Si limitasse a quello Poi alla fine Lo facevi dal commercialista E comunque Ti costava la metà Del notaio Quindi I notai Non ci sono stati I notai Hanno detto Non ci stiamo Hanno fatto ricorso Al consiglio di stato Perché i notai Il ricorso Lo fanno al consiglio di stato Vabbè Hanno fatto una telefonata Insomma Ecco Perfetto E E il consiglio di stato Ha detto No Se volete aprire Una start up Fatelo a un euro Ma poi andate dal notaio E cacciategli Diecimila euro Perché Si fa così Il notaio È garante Di tutta Una serie Di correttezze Eccetera E non si può Modificare Tutto l'impianto Della costituzione Perché I padri Della patria Un po' come Tassisti contro Uber E certamente E certamente E certamente Sì Comunque Lì C'è un tema Molto più profondo Del tema Delle start up Con Giulio c'è sempre Un tema Qualche volte è ampio Qualche volte è profondo A volte è ampio E profondo Contemporaneamente Beh in questo caso Comunque La problematica Della gestione Dell'apertura Delle società Della chiusura Delle società Lo abbiamo detto spesso Anche il tema Di come si gestisce Creare un ecosistema Florido Per le start up Non è solo nel facilitarla Ad aprire Ma anche nel facilitarla A chiudere E riassorbire Il fallimento Laddove Possa possibile In altre aziende Tutto questo Forse ancora più importante Forse è reso Ancora più complicato Quindi è un argomento Comunque che andrebbe affrontato Non soltanto in Toscani che accendono i microfoni I microfoni tutti mercoledì E iniziano a chiacchierare Tra loro Hanno già all'attivo Una dozzina di puntate Come tutto è iniziato Si intitola una A lezione di dialetto toscano Questa mi manca Deve essere divertente Il diario dei ricordi E delle notte scolastiche Oppure ancora Che colore daresti Alla tua quarantena Insomma avrete capito Non si tratta Del solito podcast Super Super verticale Da sempre Il dogma un po' Del podcasting No è la verticalità Anche l'argomento Più specialistico E astruso Se si considera Tutto il mondo Può avere un audience Abbastanza ampia Da sostenere Una trasmissione Nasceranno Trasmissioni verticali Per ogni argomento Si diceva Quando è nato Quando voleva affermarsi Il podcasting Gli appassionati di scacchi Anzi Gli appassionati Della variante Del dragone Della difesa siciliana Avranno una trasmissione Tutta l'ora A proposito Avete visto La regina di scacchi Fighissimo Sto guardando In questo periodo Bellissimo E non dovranno Quindi sorbirsi Gli appassionati di scacchi Una noiosa trasmissione Generica sugli scacchi Ma avranno quella Dedicata all'apertura Del dragone Pincopallo Va bene Tutto vero Tutto bello Ma il fatto che il podcasting Renda possibili Trasmissioni ultra verticali Non significa che quelle Più generaliste Siano vietate Anzi Perché no Ci vuole un po' di coraggio Un po' di voglia E Saper parlare Avere argomenti interessanti Ecco i ragazzi Di Too Much Podcast Sono La controtendenza Ci stanno I toscani sono un po' Bastian Contrari Too Much Podcast Non è un programma di nicchia Non è un argomento fisso Non c'è un argomento fisso E ogni puntata è diversa Dalle altre Per dirla con le loro parole Vi sembrerà di essere al bar Su una panchina O in un salotto Con dei ragazzi Che senza pretese Senza presunzione Riflettono Scherzano Condividono esperienze L'obiettivo del Too Much Podcast È quello di creare Una community di persone Che trovi nel dialogo Spontaneo e autentico Il buon umore E un po' di compagnia Durante i tanti impegni Della giornata L'ideatore E l'host Di Too Much Podcast È Giulio Che non è nuovo A produzione sul web Giulio è stato uno Dei primi a portare I gameplay di FIFA Su YouTube Italia Ha aperto il suo canale Nel 2012 Negli anni È arrivato ad avere Circa 35.000 iscritti Poi si è allontanato Per un po' Altre cose nella vita E poi è tornato Quest'anno Con il Too Much Podcast Un'idea che ci dice Nata tanti anni fa Tra un viaggio e l'altro E poi Qualche mese di progettazione L'allestimento Di uno studio Veramente professionale Tanta invidia Veramente Avessi cominciato Anch'io con uno studio Del genere Il casting ovviamente Con un po' di amici Di Livorno Qualche compagno di viaggio E via Cercateli Cercateli su TooMuchPodcast.com Oppure su YouTube Su Spotify Su Apple Podcast Tutte le piattaforme Di podcasting Ascoltate qualche puntata E Se crederete Se crederete Che qualche argomento Sia un po' Come dire TooMuch Beh Siete nel posto giusto TooMuchPodcast Ogni mercoledì Alle 14 su YouTube Per un video Ascolto di qualità Oppure su Spotify E Apple Podcast Grazie agli amici TooMuchPodcast Per aver sponsorizzato Questa puntata Di Digitalia Con cosa andiamo avanti Con I fascisti Abbiamo parlato Per due puntate Di seguito Dei comunisti Adesso Fascisti Alla riscossa Michele Ci hai messo Sul posto Questo Questo Articolo Un po' polemico Sì Poi Quindi Il post Ha fatto Questo articolo Su una polemica Nata su Twitter In particolare Sull'account Della Marina Della Marina Militare Che per la prima volta Ha avuto Un po' di Come dire Un po' di attenzione Di notorietà Principalmente In realtà Andando a guardare Un po' Tutta la timeline A mio parere Et sensibilità In realtà Soltanto per un tweet In particolare Che recita così 80 anni fa L'attacco Alla Baia di Suda Primo di una serie Di successi Quello Nell'inaccessibile L'Isola di Creta Fu il coronamento Di mesi Di preparazione E addestramento Come dire Come Come Non è un cilio giornale Luce No Però Lo stile È assolutamente Quello Un po' Che come Che era La pasta Era la La rum No Era la molisana Quelle Dalla pasta Dal sapore di littorio Le tripoline Le tripoline Dal sapore di littorio Diciamo che la marina Appunto È cascata Ripeto Secondo me Principalmente Su questo tweet Che è un po' Come dire Evocativo Con i toni Un po' Troppo Entusiasti Di una guerra Quella Della campagna Di Grecia Che Come dire Vile E dire Vile E dire Poco E quindi Niente Poi La polemica Su twitter Stiamo parlando Di qualcosa Tipo 200 commenti Quindi Siamo ben lontani Dalla cancel Caccio Sono sempre L'internet Si è scandalizzato Sono sempre Di più Di quelli Di un povero Blogger Giapponese Che non usa Il di fake Diciamo che Se l'ammiraglio Contro generale Di super armata Della marina Si fosse fatto Il di fake Con i capelli biondi E due tette Così Faceva più like Aveva fatto Però non era Non era Proprio Nel ruolo Ecco ci manca La marina Fa i tweet Della cosa Ma io non lo vedo così Non lo so Sono combattuto È vero Per me Già semplicemente Fare dei tweet E parlare di guerra È una cosa che non sta Né in cielo Né in terra Però se la marina È militare Non puoi parlare Di cosa hanno pescato Sulla porta aerei A quel punto No perché Perché non è vero Perché Una marina militare Può Ha una serie Di funzioni Che non sono Solo quelle Dell'aggressione bellica O del combattimento Anche di difesa Ma possono essere Quella No nella marina Nella marina militare C'è la guardia costiera Per cui ci sono I salvataggi I village people Ci possono essere De nevi Se me lo dicevi Preparavo Mi è venuto così Il genio spontaneo Certamente Certamente Scusa continua pure Si poteva fare altro Però Detto quello Nel momento in cui Si parla di guerre E si parla Dell'ardimento Non lo so Sono combattute È ovvio È come se Non lo so Siccome L'esercito tedesco Gli ha lasciato fare Un esercito E i tedeschi O sono sempre Senza esercito Forse sono sempre Senza esercito E i giapponesi Sono senza Anche i tedeschi Sono senza esercito Dalla seconda guerra mondiale Poi non so Se gli hanno A un certo punto Dato il permesso Di rifondare qualcosa Credo che Credo che i giapponesi La marina L'abbiano fatta Poi Poverini Lei è un'isola Avremmo bisogno Di sbarcare Poi scusa Arriva Godzilla Arriva Godzilla Che fai Cosa fai Ci mancherebbe Ci mancherebbe Vabbè Non lo so Boh Dicevo Se fai Il tweet Della 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 Marina Tedesca Che inneggiano Alle battaglie Degli U-Bot Sarrebbe stata Più o meno La stessa cosa Ma in Germania Non lo fanno In Germania Non lo fanno Perché si vergognano Ancora un pochino Forse C'è una splendida puntata Del podcast Di una conferenza Di Barbero In cui spiega Il rapporto Tra la differenza Del rapporto Col passato In particolare Della seconda guerra mondiale Tra la cultura E la coscienza italiana E quella tedesca Datelo a recuperare Datelo a ascoltare Credo sia un riflesso Della differenza Di coscienza In generale Della cultura italiana E quella tedesca Anche a tanti livelli Ma anche di come Si sono svolti gli eventi Nel bene e nel male Ma poi certamente 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 Apple si dichiara Sorpresa Anzi direi quasi Stupita Stupita Delle polemiche Della frustrazione Noi Ma chi Noi Eh sì No ma che bello Come facciamo la difesa Con l'antidrust Nega tutto Questo è Come il meme Di Renzi First reaction Shock Gli sviluppatori Su piattaforma Apple iOS Si lamentano Perché possono solo Passare Dall'app store Apple Ha le sue condizioni Draconiane Se metti una tetta di più Ti buttano fuori Dallo store Guadagni Vabbè Eccetera eccetera Ti ranzano il 15 O il 30 Per cento Eccetera Si lamentano Apple No Ma dai Ma siamo stupi Ma proprio Ma perché Ci sono mille Dice Tim Cook Modi diversi Per gli sviluppatori Per farsi conoscere E per distribuire Le loro app Basta che sviluppino Delle web app Ok Che bello Ok Ok Mentire E sapere di mentire Cioè la faccia Come il culo Che Noi ci siamo Concentrati sul potere Degli ingegneri Ma adesso il potere Degli avvocati Cioè veramente Tutta la No ma No no Hai ragione Hai ragione È la tradizione Del sofismo Certo Certo Anche perché Nel momento in cui Hai una contestazione Per mancanza Di risposta Al tuo pubblico E la tua risposta È che tu non avevi idea Che il tuo pubblico Fosse insoddisfatto E dimostri quindi Di non aver ascoltato Tutto quello che è successo Adesso In termini di Proprio Lamentele Sul lamentele Sul lamentele Su tutti i canali Del mondo Su qualsiasi cosa Che viene riconosciuta Come un processo Rotto Sotto ogni aspetto È proprio È una presa in giro È oggettivamente Una presa in giro Io ho caricato Una volta Un'app Cinque anni fa E già Non funzionava E non è ancora E non è ancora approvata Sta ancora in pending Franco magari Ne sai sicuramente Tu più di me Però mi sembra Un processo Che non c'era Sì Non è quello A me va bene Non va bene Eccetera Può andare bene Tutto Possono sostenere Che devono avere Il controllo totale Per evitare Che la piattaforma Diventi una latrina Come Android Dove scarichi Un'applicazione E ti stuprano La figlia Dopo 15 minuti O roba del genere Va bene Potete sostenerlo Va benissimo Va benissimo Dite noi vogliamo essere The master of the IOS universe Qui decidiamo noi Siamo i dittatori E è fatto così Se non vi va bene Sviluppate da un'altra parte A me Può anche andare bene Può anche andare bene Ma non mi vanno bene Le menzogne Ecco Quando tu ti ergi Maestro di etica Come fa Tim Cook Noi siamo quelli Che vogliono salvare il mondo I nostri I nostri Mac Sono fatti solo Con l'alluminio riciclato Stiamo attenti Che non venga sfruttato Nessun bambino Al di sotto Dei cinque anni Nelle miniere Per estrarre il coltan Che utilizziamo noi Sopra i cinque anni Va bene tutto E robe del genere Ebbene Allora L'etica vale solo Quando ti rivolgi Quando fai marketing Nel rapporto Con i tuoi ascoltatori Con i tuoi utenti Nel rapporto Con chi sviluppa Con i tuoi sviluppatori L'etica non conta più Di fronte alla legge L'etica non conta più Non è che puoi essere Una persona etica Solo quando ti interessa Solo quando ti fai La pubblicità E quando ti fai bello Ecco Ah sì Questa cosa mi fa Veramente schifo Veramente schifo Sì Ma poi è È proprio un modo Anche da parte di Apple Di Continuare a non sostenere La comunità Che ha fatto grande Parzialmente Quella società E quindi Certamente 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 Due minuti Due minuti Due minuti Per ringraziare I nostri produttori Esecutivi A volte Non c'è il file Non c'è il file Scusa Non l'ho fatto in tempo Chi sono i produttori Esecutivi Sono i sostenitori Di Digitalia Digitalia ha un modello Di business Che si fonda Sui contributi Dei suoi ascoltatori Noi produciamo contenuti Lavoriamo tutta la settimana In cambio Vi chiediamo Se Dopo un Adeguato periodo Di trial Gratuita Ci ispiriamo al software Di cui parliamo Da 12 anni Vi chiediamo Se Digitalia entra a far parte Della vostra routine settimanale Di contribuire Con Il denaro Quanto decidete voi Ogni quanto lo decidete voi E noi in cambio Continuiamo A lavorare Per voi Allora Luca Polignano Ci manda un euro Di donazione singola Marco Pasqualotto Ci manda Due Donazioni Per Una per questa settimana E l'altra dice Donazione doppia Per rimettermi In pari Perché Paypal Adre mi ha fatto partire In ritardo Quella della settimana scorsa E non vi è arrivato in tempo Per poter essere Annoverato Tra i Perpetual Producer Esattamente perché Marco Insieme a Manuel Zavate A Davide Tinti Sono i nostri Perpetual Ogni singola puntata Ci mandano Un euro Grazie di cuore Poi abbiamo Alberto Luigi V Che ci manda Due euro Cristian Vidimari E Edoardo Zini Cristian Due Edoardo Tre Alberto Cuffaro Andrea Bottaro Fabio Filisetti Valerio Bendotti Qui siamo entrati Nella Nel spezzone Dei tre euro Di donazione ricorrente Cristiano Belli Maurizio Chiarotto Marco Giorgetti Matteo Sandri Giuseppe Marino Paola Danieli Mattia Lanzoni Giulio Magnifico Diego Violi Nicola Biscelli E Matteo Rosina Cinque euro Invece ci mandano Luca Ferrari E Claudio Ruscelli Che ci scrive Ciao digitali Digitaliani Sono Claudio Quello che nel censimento Ammise di non aver mai contribuito Perché lavora in officina Metalmeccanica E quando esco di lì Voglio dimenticare tutto Stamattina entrando in macchina Per entrare al lavoro Come al solito È ripartita la riproduzione Dell'episodio Che stavo ascoltando ieri Così mi sono ricordato Piano piano Rimetto in pari Grazie Claudio Noi ci teniamo Grazie davvero di cuore Continuiamo Cinque euro Tutti i mesi Maurizio Mistrali Carlotta Cubeddu Giorgio Antonio Gargiulo Paolo Massignano Flavio Castro Douglas White Timpierre Francesco Urbano Dardi Massimiliano Mauro Schiavon E Mirto Tondini Mirco Mirto C'è scritto Mirto Mirto Ti chiami veramente Mirto Ti chiami Mirco E c'è un errore di spelling Chi lo sa Facci sapere A noi ci interessano Tutte le cose un po' curiose L'idea di avere un ascoltatore Che si chiama Mirto Per noi sarebbe Sarebbe un vanto Sarebbe un vanto Però non saprei Daniele Tomasoni E poi Daniele Tomasoni Sempre cinque euro Tutti i mesi Giancarlo Merilisi E Silvia Fattori Invece ci mandano Dieci euro di donazione singola Silvia ci scrive Bravi E Giancarlo ci scrive Grazie per il vostro lavoro E poi abbiamo Due donazioni ricorrenti Da dieci euro al mese Che danno il titolo Di grande produttore Anche le dieci euro Di donazione singola Dire la verità I produttori Donazione ricorrente Sono Fabrizio Mele E Maurizio Galluzzo Vecchie conoscenze di Digitalia Lead Executive Producer Con un bonifico da quindici euro È il nostro Eugenio Nappi Grazie di cuore a tutti Vi ricordo Paypal Bitcoin Satisfay Bonifico Bancario Su digitale.fm Avete tutte le coordinate Voi continuate a sostenerci A darci una mano Perché noi lavoriamo Continuiamo a lavorare Per voi Allora Con cosa andiamo avanti Andiamo avanti C'era ancora un articolo Apple's Privacy Problem Michele L'hai messo tu Questo articolo Ci racconti qualcosa di più? Sì È un'indagine Che è partita Dalla Francia Che è sempre Uno dei paesi Più all'avanguardia Anche se poi In realtà Il suo garante del GDPR È un po' più Molliccio Di quello italiano Comunque Niente Ha un po' Bacchettato Apple Perché dice Un po' come Alla fine Quello che dicevi tu prima Ossia Sì ok Adesso puntate tanto Sulla privacy Fate tanto i bellilli Che i vostri device Sono assolutamente Privacy proof Anche con la nuova tecnologia Che evita il tracciamento Però poi I vostri utenti Si beccano Dell'advertisement Mirato All'interno Dei propri device Rimanendo nell'ecosistema Apple Quindi Dice Il Come dico in inglese Il watchdog francese Voi alla fine Ne non state facendo Nient'altro Quello che stanno facendo Già gli altri Però semplicemente Lo fate All'interno Del vostro ecosistema Con poco Con poca chiarezza Nei confronti Dell'utente Che non sa bene Che sta Alla fine Condividendo dati Di profilazione Con l'azienda E quindi Come dire Sono diversi Ovviamente Sono diverse scale Di gravità Quello che Tu puoi fare All'interno Del cosiddetto Del tuo ecosistema E quello che puoi fare Con aziende Aziende terze A cui tu vendi Poi Lo spazio Però Secondo me Fa parte Ecco Di una Di una cultura Che Come dire Fate fare Apple dice Secondo me Ai suoi utenti Molto Fate fare a me Che Non ci sono problemi Però Io faccio le cose Che voglio io E qui poi Ci si trova Poi con L'advertisement Mirato In giro Per IOS Nelle app Certo È la solita Doppia morale Anche cercare Di convincere Con questi messaggi Che tutto quello Che passa Da Apple È privacy Dopodiché tu apri Safari Ti ritrovi Un'unica casella In alto Dove puoi scrivere Qualche cosa Dove c'è scritto Semplicemente Cerca Leggo Su Mac Dice Cerca O inserisci Il nome Del sito Web E tu Immagini Di fare Una ricerca Normale Di trovare Qualche cosa Non se sei Un utente Avanzato Ovviamente Ma se sei Un utente Qualunque Pensa Di fare La solita Operazione All'interno Dell'ecosistema Di Apple Che ti ha detto Tim Cook Che i tuoi dati Sono sicurissimi E non vengono Sfruttati E niente E nel momento In cui tu digiti Lì dentro Finisci dentro Google E Google Come ringraziamento Dà quanti Quanti miliardi All'anno A Apple Siamo sempre Nella doppia morale Quei 12 miliardi Lì sono sporchi Del sangue Della privacy Uccisa Dei tuoi utenti Caro Tim Cook Non puoi andarti Poi a presentare Al keynote successivo Facendo il palladino Della privacy Perché nelle tue casse Ci sono 12 miliardi Fatti Erodendo la privacy Non l'avrai fatto In prima persona Ma quel traffico Gliel'hai mandato tu In maniera surrettizia Peraltro Perché nella casella Non c'è scritto Cerca con Google C'è scritto Cerca o inserisci Il nome del sito web E lì è Inganno Ingannare i propri I propri clienti Non c'è niente da fare Va bene Da Apple All'intelligenza artificiale Questo fa paura Avete visto La DARPA Ha Fatto questo software Di controllo Degli F16 Completamente autonomo Dove Ci sono addirittura Due caccia Pilotati Da due intelligenze artificiali Che in maniera Cooperativa Fanno Impegnano In un Ingaggiano In un Combattimento aereo Un eventuale Un eventuale nemico Mettendolo in difficoltà E cooperando Tra di loro Hanno fatto la prova Nel simulatore Due intelligenze artificiali Su due aerei E un altro aereo Con un pilota umano Ed è finita Tipo 12 a 0 Inovilato Sì comunque È veramente molto interessante Il fatto che Riescano In qualche modo A me colpiva Perché finché parlano Tra due intelligenze artificiali Riesce a immaginare Comunque un certo tipo Di pattern Che magari sono Programmate entrambe Nella stessa logica E quindi riescono A sviluppare Un certo tipo Di dinamica Ma nel momento In cui interviene L'imprevedibilità Della ragione umana E comunque Ti fai Quanto hai detto 12 a 0 Cioè una roba Incredibile Senza senso Veramente senza senso Vabbè alla fine Sono dei grossi droni Sì ma è Sì Però È il discorso di prima Del Camel Trophy Cioè Se vuoi fare la guerra La fai sul serio Ci mandi degli esseri umani In carne ed ossa E se li hai mandati al macello Poi ti presenti Dalla mamma Del signore in carne ed ossa Che hai fatto macellare E gli chiedi scusa E gli spieghi Perché hai mandato Il figlio al macello Andare a bombardare Asili infantili Nello Yemen Con i droni Sono capaci tutti Quello non è Non è fare la guerra Quello già succede Oramai da 10-15 anni Beh Non per questo sia Tra vent'anni No 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 Tra vent'anni I tweet della marina Diranno I nostri droni Coraggiosamente Hanno sterminato 200 bambini All'inizio dei successi Perfetto Porca vacca Va bene A volte L'intelligenza artificiale Ci fa paura A volte ci fa Semplicemente Ridere Questi qui Hanno utilizzato L'intelligenza artificiale Per fare i Mene di ispirazione Sai quelli No ogni giorno Puoi essere una persona Migliore del giorno precedente No con la foto Del che ne so Dell'atleta di tu Queste sono generate In automatico Leggi quella Ne leggo qualcuna Poi votiamo La migliore di tutte La prima Make sure Assicurati Che chiunque Sia conscio Del fatto Che tu sei Stupido e famoso E c'è una foto Con 8 uomini Sul bagnasciuga Anzi In acqua Fino alle ginocchia In ombra Non si vedono le facce Niente Non c'è proprio Un cacchio Almeno 10 comunque Fake news Prendi a calci Le persone Che non conosci Mentre stanno Bruciando la spazzatura Nel giardino Sul retro No però Non hai letto La più bella Scusa Continua a urinare O se no Potresti diventare Armonioso A te piace questa Col signore Che si tuffa Che bello Va bene A te piace questa A me Sinceramente Per me La cosa migliore Di tutti È questa foto C'è un ponte In mezzo Alla natura Al verde Questo strapiombo Con questo ponte A metà Da sopra Al ponte Molto in alto 50 metri sopra Parte una cascata Molto sottile Con l'effetto Proprio dell'acqua Che scende Che cosa Che prende in pieno Un uomo In piedi Sul ponte E ci sono tre parole Dice Don't communicate Eiaculate Che stile Devo dire che Ecco Però è bello È bello anche il sito Che si chiama No volevo dire È bello anche il sito Che si chiama Sed and Useless Quindi non so Cos'altro Vi aspetto Inspireybot Punto me Quest'ultima Potrebbe essere Il titolo Della puntata Don't communicate Eiaculate Maura che ci mettano In castigo Su tutti i motori Di ricerca Dell'universo Una live It's time to forget Everything you know About intestines Dopo di dimenticare Tutto quello che sai Sugli intestini Ce ne sono Sì sì Ma ce ne sono Una serie Vabbè Però l'intelligenza Artificiale ogni tanto Serve anche per fare Delle cose utili Ad esempio William Shatner No vabbè William Shatner Ha deciso Di farsi Conservare Per le future Generazioni Tramite l'intelligenza Artificiale Cioè si sta facendo Succhiare L'intelligenza Dentro un bot Qualcosa del genere Ho capito bene Sì sì Stile Futurama È proprio Quello il percorso Sì sì Beh però Perché no Cioè Tu sei un attore William Shatner Vuoi vivere Per l'eterità Vuoi vivere Per l'eternità Nel tuo lavoro Magari un giorno Come dire Non verrà neanche fatto In Come dire In prospettiva Morte Ma in prospettiva Di non voglio andare Su quel set Ok Invece di andare io Mando La mia versione Artificiale Imbottata Sia estetica O magari faccio Recito magari Le battute Con l'espressione facciale A casa Mando tutto In post produzione E poi c'è Lomino Sul green screen Che recita per me Lo schiavetto Esatto Lo schiavo Esatto Per cui avremo A un certo punto Avremo Un film Una cinematografia Dove non ci saranno Più attori Nuovi I nuovi attori Saranno tutti Degli schiavi Pagati un euro Perché loro Semplicemente Faranno le controfigure E poi nel film finale Non ci sarà La loro faccia Il loro corpo Ma ci saranno Quello dei famosissimi Attori del passato Che non morendo mai Tra virgolette Continueranno a fare film Perché è ovvio Che se fai un film Con William Shatner E beh Vendi di più Che con un attore sconosciuto E come no E come i film di fantascienza I romanzi di fantascienza No Il primo problema Dell'immortalità è Dove la mettiamo Tutta sta gente E con gli attori La stessa cosa Se non muoiono più Quelli nuovi Non c'hanno lavoro Vabbè Ok però William Shatner Che oggi Già ci lamentiamo Dei remake E dei sequel Voi immaginate Fichessi invece Oltre a essere remake E sequel Sono anche fatti sempre Con gli stessi attori E certamente E certamente Vabbè Energia No Cos'è che diceva Comandate Kier Voi non siete Star Trekisti Io sto continuando A generare Comunque frasi motivazionali Mentre voi parlate Quindi se ogni tanto Non vi rispondono Free energy It's a lie Ok Ogni tanto Tiracene fuori qualcuno Magari ci esce fuori Il titolo della puntata Ma ogni tanto Vi rispondo Vediamo se indovinate Se sei tu O sei l'intelligenza artificiale Va bene Del problema Del problema Delle applicazioni Per i prestiti In India Mamma mia Ci sarebbe da parlare Due ore Però Vabbè Possiamo accennarne Giulia Una cosa Terrificante Eh sì Perché ne avevamo Visti i primi effetti Su questo mercato In Cina Dove di fatto La disintermediazione Di queste app Non passa più Attraverso le banche Ci sono questi prestiti Molto veloci Che ti vengono concessi Rapidamente Per fare anche Acquisti di impulso E quindi vanno Veramente a prestare Cifre che vanno Dalle piccole alle grandi E poi devi restituire Altrettanto rapidamente Ma non c'è nessun Credit score Quindi non c'è nessuna Affidabilità creditizia Questo meccanismo Si è sviluppato Ugualmente anche Anche in India E di fatto Hanno stimato Che nel corso Della pandemia Sono stati transati Diversi miliardi Su queste applicazioni Dove Il dramma E che chiaramente Si prestano soldi In maniera così semplice De farla percepire Un qualcosa di Stupido Immateriale Veloce Che mi consente Di togliermi un vizio E poi il modo Di riscuotere questi crediti Diventa molto drammatico Perché si utilizza La vergogna Il bombing Si va In maniera molto aggressivi La meraviglia del web Perché queste app Oltre a darti il prestito Ti prendono Tutti i contatti Dall'agenda Tutti i messaggi E poi ti sminciano Con i tuoi amici E poi ti spammano I tuoi amici Dicendo Quel cretino di Giulio Deve ancora Imposti in paesi Dove magari A livello Religioso Culturale Eccetera Il debito È un Disonore Un peccato Ecco O addirittura Un peccato Esatto Nei confronti Della divinità Eccetera E quindi Con suicidi E robe del genere Eh sì Eh beh Gli smartphone Ah le magie del web Eh internet Internet Stiamo diventando vecchi Quando eravamo giovani Parlevamo Con gli occhi Che ci brillavano Che ci brillavano Di luce Dicevamo Però diciamola Questa cosa è digitale A noi l'abbiamo sempre detto Il grande dramma Di gran parte Del giornalismo Sull'innovazione Che l'ha sempre considerata Solo una cosa positiva E questo modo Di interpretare le cose È quello che ha fatto Tanti di questi danni Perché se ci fosse stata Un po' di criticità Critica Prima Prima che fosse tutto Percepito così come era Si sarebbe potuto costruire In maniera diversa E noi questa cosa Abbiamo sempre cercato di farla Questo è importante È vero È vero Fa parte un po' Del nostro DNA Poi a noi ci lucicano Ci brinano gli occhi La tecnologia Le meraviglie della tecnologia Ci appassionano Da vecchi ci compreremo Il montascale connesso Z-Wave Certamente Certamente Quello che si blocca a metà Alicchia Alicchia Esatto Riavvia tutto Fai reboot al router Porca vacca Ci mancherebbe Ci mancherebbe Medium aveva cambiato logo Ma non è servito Michele Com'è questa storia? Non è bastato Non è bastato Peccato Perché era una strategia Che sappiamo Che in passato Ha pagato In tantissime realtà Quando un'azienda Cambia logo State sicuri Che c'è un problema sotto E infatti Questo problema Sta venendo a gallo E che questo problema Non verrà risolto Dal cambio di logo Esatto La regola numero zero Dell'internet E niente Hanno problemi di business Con L'azienda Che sta cercando di Quando ti posizioni Come startup Dal 2012 C'è un problema Quando diventi unicorno Non ne parliamo Non ne parliamo proprio Medium Si era prefissa L'obiettivo Di pagare Un corrispettivo Giusto e corretto Ai content creator Ma le cose Non sono andate così Anche qui Ne abbiamo parlato Anche qui Su Digitalia Che comunque Il business di Medium Non era molto sostenibile Perché per quanto Puoi essere bravo A coprire Una vasta gamma Di argomenti Che è quello Che faceva Medium Anche con i suoi stessi Magazine pubblicati Tipo One Zero Che a un certo punto Si credo di essere Passato anche a seguire Non puoi competere Con la vastità Del web E con la vastità Delle risorse Che ci sono A cui una persona Può attingere Quindi pensare Di chiedere Un abbonamento mensile E sperando Di beccare Tutti i content creator Di una persona Ecco diventa Estremamente Estremamente complicato Quindi Medium Sta andando A capa l'aria Come si suol dire E non è ancora Non è ancora Assolutamente In fallimento Diciamo che In ristrutturazione Però Ecco Se nel 2012 Era un format Che Poteva essere Ancora Fruibile E al passo Con i tempi Oggi Con la concorrenza Badalmente Di sub Sub stack Diventa Diventa Molto 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 complicato Ecco Continua a reggere Il passo Soprattutto poi Quando continua A pagare Alla fine I giornalisti Content creator Tipo Un dollaro Per ad articolo Perché poi È quello che sta venendo Un po' fuori adesso Ecco Che tanti erano Freelancer Pagati poco Ad articolo Sì Che poi Il tema di Medium Il grave problema Come dicevi tu Michele È stato il fatto Di aver Cambiato rotta Tante volte Di aver investito Tanto su questi Cambi di rotta Senza però Poi strutturare Un modello Che permettesse A questa rotta Di emergere Perché l'ultimo cambio Che è stato quello Di aprire dei magazine Verticali Rompendo La tematica Di come Medium Era strutturata Hai reso tutti scontenti Perché apri un pezzo Non lo sostieni Rompi il pezzo precedente E non lo sostieni Crei un ibrido Che poi Non si tiene in piedi Perché fa due lire Nessun ecosistema Si va a creare E oggi Rispacchi tutto Soprattutto fa una dichiarazione Dove ancora oggi Tratti la società Come se fosse Una start up Quando Stai parlando ovunque Di nove anni di attività Dove dovresti aver capito Che direzione vuoi prendere Quindi è proprio Tutto sbagliato Ma infatti Perdi Perdi tutta L'attenzione Dei tuoi clienti Io credo che uno Dei peccati Principali Di Medium Sia stato quello Di non dare Un'identità A chi scriveva Cioè chiunque scrivesse Aveva nessun controllo Sull'immagine Sulla grafica Sulle cose Se non la possibilità Di mettere appunto Delle immagini All'interno Dell'articolo Eccetera Ma comunque Che scrivesse Un giornalista Del Corriere Un blogger O un giornalista Di The Verge O chiunque L'idea Al visitatore Della pagina Era semplicemente Che leggeva Medium E questo credo che sia La cosa che abbia Tenuto alla larga Più di tutto Creatori Tanti creatori Di contenuti Cioè non puoi E di nuovo La solita immagine Del comunismo Per gli altri Quelli che scrivono Devono essere Tutti uguali Tutto quello che viene scritto Su Medium Deve essere tutto uguale Tutto con la stessa Impostazione grafica Nessuno ci può mettere Il suo logo Se non una fotina Così piccola Così con la sua faccia Eccetera Ma è tutto Medium Per cui tutti uguali E io sono più uguale Per gli altri Perché sono quello Che raccoglie I soldi per tutti E il solito Vabbè lì però Lì però devi anche Contestualizzare Nel momento In cui è uscito In cui Le principali Piettaforme Competitor Dal punto di vista Però di Di strumento Quindi non parlo Tanto di contenutistica Erano ad esempio Blogger Erano Tumblr Dove Siamo quasi A livelli di Geocities A livelli di qualità Di qualità Quindi erano Tempi diversi No Erano tempi diversi Blogger e Tumblr Erano molto più Customizzabili Di una pagina Su Medium Esatto Medium Ma Medium E ai tempi uscì anche Ghost Che se non ricordo Che è ancora Vivo Però è solo Piattaforma Con Erano però Una controreazione A quell'impostazione Grafica ed editoriale Medium Secondo me Era Medium Il fondatore di Medium Come tutti i tweet Mi puzza Mi puzza di intelligenza artificiale È troppo profonda Per te questa Mi puzza di intelligenza artificiale Sono stato scoperto Non hai passato il test Di Turing Turing Non solo è stato riabilitato Ma mica da tanto È da un paio d'anni La figura di Alan Turing Ma quest'anno Gli viene dedicata Anche la Non una ma la Banconota Da 50 sterline Una bella Banconota Tecnologica Come deve essere Sulla foto Nelle immagini C'è La faccia di Turing C'è una Una formula Presa dal suo Dal suo paper Quello Oncomputable numbers Turing Ve lo ricordiamo Se non conoscete Turing Che siete giovani Andate a studiare Turing Turing è uno Dei papà veri Del computer Oltre a essere Quello che ha fatto Che ha dato Una mano decisiva A vincere La guerra Contra i nazisti Cattivi Decritando Costruendo Le macchine Anche quelle Antisignale Dei computer Si chiamavano Le bombe Che sono Che riuscivano A decrittare I codici Cifrati con Enigma La macchina Cifrante Dell'asse Beh Meno male Carina Molto Molto Potendo andare In Inghilterra Molto Molto piacere Puoi andare In Inghilterra Non puoi uscire Di casa Te l'ho detto Non puoi uscire Di casa Ma non puoi Agli inglesi Non accetta nessuno Ma secondo me Se ti presenti Dici voglio fare business Sono Giulio Cupini Ho una varigetta Con 5 milioni di dollari Arriva Boris Direttamente Capace che aprono Secondo me È il solito discorso Non entri Se sei Se sei un pirna Qualsiasi E va bene Dai Così riesco a usare Il jingle nuovo Ma avete messo Due articoli Su Intel Su questo chip maker Thailandese TSMC Che fondamentalmente È quello che fa i chip Che girano Praticamente Su tutte le nostre macchine Tutti È quello che c'ha la tecnologia Per farli piccoli E pieni E pieni di transistor Perché poi Questo è il tema Loro sono stati Molto molto bravi A sviluppare tecnologia Che ha permesso Comunque di avere Uno sviluppo Anche alliello Proprio di fabbriche Che gestisce La produzione mondiale Di fatto Di tutta la grande Manifattura Legata al mondo Che necessita dei chip Quindi dall'automotive Fino ai computer Passando per Per le console E per altri mille Mille device È una società Che fa da infrastruttura Un po' Al mondo Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Di fatto loro Non progettano i chip Loro li realizzano È un po' come fosse La Fox Hanno tecnologia Per produrli Esatto Arriva Apple A chi fa produrre I suoi chip Che progetta Con il suo team E che gli permette Di sbaragliare La concorrenza Li fa produrre Proprio a TSMC Che produce Una quantità Terrificante Perché arrivano A fare i chip Quelli a 3 nanometri Ho letto Nel prossimo futuro Tant'è Tant'è Che Una Tra i punti Che chiaramente Loro Evidenziano Come strategia Anche proprio Di sviluppo Industriale Che stanno applicando E quella che Ci sono stati Molti Stati Che hanno In qualche modo Cercato di attrarre La società Inserire fabbriche Tra cui il Giappone Tra cui gli Stati Uniti A cercare di far Localizzare Parte di questa produzione Però Ad esempio Negli Stati Uniti Stanno sviluppando Una fabbrica Credo in Texas Con millemila miliardi Di investimento Però faranno Credo Le versioni A Sette Quindi non arriveranno Fino a tre E quindi Nel momento in cui Quella fabbrica Sarà aperta Sarà già una fabbrica Tra virgolette Vecchia Quindi si tenderà In qualche modo A tenere in casa Quel tipo di competenza E ovviamente Questa cosa Per tutti quanti È un tema Perché se si ferma Quella società lì Si ferma tutto E quindi Non è banale Non è banale Assolutamente Per darvi un'idea Dell'importanza Di questa azienda Ci sono molti Osservatori Molti giornalisti Molte persone Che pensano Che questo Potrebbe essere Uno dei motivi Per cui La Cina Farà fare a Taiwan Alla fine di Hong Kong Soprattutto poi Oggi In cui La Cina Non è così A fame di Cip Sarebbe Un grosso problema Sullo scacchiere Internazionale Perché Hong Kong Aveva una sovranità Limitata nel tempo C'erano già trattati In piedi Scadeva Dalla costituzione Dalla fine Credo Avevano Un centinaio D'anni Se non ricordo male Si accordi Un centinaio D'anni Da quando Sono stati ratificati Dopo la fine Della seconda guerra mondiale A quando dovevano Invece Taiwan È riconosciuta È una storia diversa È riconosciuta Dalle nazioni unite Come nazione autonoma È solo la Cina Che Fondamentalmente Taiwan è un po' Come la È un po' Come il governo Di Vichy Per i francesi Durante l'invasione Nazista Cioè è il governo cinese Che durante questa guerra Contro i signori Dalla guerra Eccetera Sono scappati Quando arrivò Mao Credo che risalgano All'epoca di Mao Sono quelli che Resistettero C'è una bella pagina C'è una pagina Di Wikipedia Che parla di Parlava prima Della guerra Contro questi signori Dalla guerra E poi appunto Della 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 Dei conflitti Comintao E robe Del genere Vabbè Comunque Fondamentalmente Quello che era Il governo Si è ritirato Lì E ha fondato La Repubblica Di Cina In antitesi Alla Repubblica Popolare Cinese E ovviamente La Repubblica Popolare Cinese Non l'ha mai Non l'ha mai Riconosciuta E c'è la possibilità Però invadesse La Corea Con addirittura Delle Implicazioni strategiche Come queste Credo che Si rischierebbe Veramente La terza guerra mondiale Per cui sarebbe Sarebbe veramente Una mossa Una mossa Pericolosa E sui chip Si gioca tanto Con l'avvicinarsi O col timore Dell'avvicinarsi Della fine Della legge Di Moore I chip Sono sempre più difficili Da migliorare Eccetera E il fatto Che qualcuno Riesca a innovare Più degli altri Eccetera Può dare Dei vantaggi competitivi Tutta la guerra Tra Apple E Intel Intel stessa Che si è trovata A delocalizzare Anche quello La fine Di un periodo Importante Intel per due Per due generazioni Di fila Ha fallito Gli yield Quindi la resa Delle sue fabbriche E ha dovuto Spostare E dare Proprio A TSMC L'incarico Di produrre Una certa quantità Vabbè Insomma Tutto questo Ne parleremo tanto Tant'è che abbiamo Preparato una sigletta Per questi Per questi Tutto questo Perché Franco La facciamo sentire L'anteprima Non è male Questo è il commitment Di Digitalia Verso l'argomento Esattamente Abbiamo preparato Una sigla apposta Per cui Si dovrà Parlare Molto di Va bene Ultimissima Ultimissima cosa Clubhouse House Club Clubhouse House Club Abbiamo dato il benvenuto Agli androidiani La settimana scorsa Non so A me sembra Che ci sia un po' Di stanchezza Perché abbiamo fatto La prima Con 40 persone La seconda Con 60 La terza Con 30 La settimana scorsa Saremmo stati 15 Boh Noi facciamo Digitalia Adesso Volete fare ancora Un Clubhouse Questa settimana Questo giovedì E provarci ancora Vedere Cosa succede O aspettiamo Che maturi Il mezzo E poi Se ne riparla Ma facciamocelo Anche dire Dagli ascoltatori Magari Tanto gli ascoltatori Ci possono raggiungere Su Slack Su Twitter Sui commenti A tutte le parti Se piace E i gingili E i gingili del giorno Tanto i gingili del giorno Tanto Mish Lo saltiamo sempre Ormai Mish È il bidone Della spazzatura Però siamo arrivati Quasi in fondo Credo che non è mai Alla scheda Prima di Mish Perché abbiamo riavviato Perché abbiamo riavviato i router Per cui non avevamo Quei due secondi di latenza Tra una parola e l'altra Ci sta Abbiamo compresso il tutto Signore e signori I gingili del giorno Proprio così I gingili del giorno I gingili del giorno Sono le Gli ultimi segmenti Gli ultimi scampoli Digitaliani Della puntata Le voci digitali Selezionano per voi Gingili Hardware Software Letteratura Qualsiasi cosa Che abbia attinenza digitaliana Che abbia colpito La loro curiosità Stravolto La loro esistenza O qualsiasi Sfumatura nel mezzo Vediamo un pochino Giulio Vuoi cominciare tu Ma volentieri Allora io vi segnalo Il lancio oggi Di una nuova app Sia su iOS Che su Android Che si chiama Agi Prima È una nuova applicazione Che è dedicata A sostenere un po' Il giornalismo di qualità E qui Disclosure Io ho una relazione D'agenzia con Agi Quindi Ne conosco il valore Il valore del prodotto Agi è un'agenzia Di stampa Che di fatto Fa della qualità Al suo punto di forza Hanno investito Su quest'app Per portare sul mobile Quella che è un po' La storia Dell'agenzia Quindi notizia di qualità Investire sul Velocità con cui Queste vengono veicolate E quindi Approfondire poi L'argomento Con giornalisti Che fanno questo Da tantissimi anni L'app Ha un modello Di business a pagamento 29,99 l'anno E la trovate Su entrambi gli store E spero vi piaccia Perché è un prodotto Di veramente buona qualità Un prezzo Un prezzo Non economicissimo Ma se il contenuto È valido Certamente Grazie Giulio Michele A chi invece piacciono Le cose gratis Mica 29 euro E si fa competizione A ribasso Su PS4 Sullo store C'è come l'anno scorso L'iniziativa Play Play at home Credo che si chiami E danno giochi gratis E uno di quelli carini Oltre a Horizon Zero Dawn Che è probabilmente Quello più famoso Tra quelli più indie Ecco C'è Enter the Gangeon Che è un rogue Roguelike Bullet Hell Che non sapevo fosse Un genere Bullet Hell Che in pratica Roguelike Quindi Dungeon Generati casualmente Bullet Hell Perché vi sparano Da ogni dove E' gratis Sul Appunto Sulla store Della Playstation Lo trovate Però anche In sconto 50% Su Steam Su GOG Ed è anche Su Linux Quindi Mac PC Mac Windows E Linux Ma spiegami una cosa Gangeon Perché è una via di mezzo Tra dungeon E la ganja E gun Ah la gun Ah le tistone Ah Capito Eeeh Capisci Vabbè Ultimo genio Un documento Un piccolo documento storico Una paginetta Originariamente Non in ipertesto Non sul web Perché ai tempi Guarda un po' Il web non esisteva E questo è il documento Che un ingegnere Di nome Tim Aveva scritto Per cercare Di persuadere Il management Del CERN Che un sistema Globale Di ipertesti Sarebbe stato Nell'interesse Appunto Del CERN A quei tempi Questo sistema Di ipertesti Si chiamava Mesh E solo in seguito L'autore Tim Berners-Lee Ha deciso di chiamare World Wide Web Ecco Questo è il documento Con cui Tim Berners-Lee È riuscito A cambiare il mondo Se avesse scritto male Questo documento Oggi non saremmo Sul web Il web Non sarebbe esistito Beh Io credo che ne valga la pena Leggere Un documento Del genere Poco importante È una piccola pietra miliare Dateci un'occhiata Lo trovate insieme Agli altri Gingilli del giorno Su digitalia.fm Slash 568 Insieme ovviamente Ai link Di tutte le notizie Che abbiamo commentato Di cui abbiamo parlato Durante la puntata E siamo arrivati in fondo Senza paura E soprattutto Senza latenza Che non è male Vedi le lamentere Della settimana scorsa Se non avete sentito La puntata Della settimana scorsa Le lamentere Le bestemmi Potete anche non ascoltarla Abbiamo avuto qualche problema Un pochino serio Ma l'abbiamo portata A casa lo stesso Però insomma Lavorare come si deve È tutta un'altra cosa Michele Ti vedevo che avevi qualcosa Da aggiungere prima No? Mi sono sbagliato No Non sto più guardando Il generatore Di frasi motivazionali Quindi non ho più niente Non è uscita una Abbastanza intelligente Perché Che ci potesse stussicare Non ne ho più niente da dire Va bene Raccomandazioni sono sempre le stesse Portate i vostri amici Su digitalia Fate bella figura Gli fate un favore Fate un piacere a noi Rendete digitalia più grande Lasciateci Lasciateci Recensioni Dove volete Se le mettete su Apple Podcast Ci arrivano in automatico Se le mettete altrove Fatecele sapere Che noi le leggiamo Volentierissimo In trasmissione Anche se salutate la mamma Noi lasciamo i saluti interi Potete salutare la mamma O anche chi volete Finché rimaniamo Nell'ecito Nell'elegante Nell'non troppo Ecco Perché? Beh il giusto Anche inelegante È mai giusto Elegante Elegante ma il giusto Ovviamente il giusto Lo deciderà Michele Che sarà l'arbitere Eleganzie Delle vostre Impazialità Fatta persona Il giusto Lo decide il giusto Michele il giusto Perfettamente Abbiamo anche uno Dei candidati titoli Della puntata Michele il giusto Per questa puntata È tutto Dall'Ivistudio Liguria 1 Di Sanremo Un saluto da Franco Solerio Dal giustissimo studio Di Milano Un saluto da Michele Di Maio E un saluto anche da Roma Da Giulio Cupini Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Grazie a tutti Grazie a tutti